Il trasporto merci su ferro non si è mai fermato durante l'emergenza sanitaria da coronavirus, anzi ha continuato a garantire approvvigionamento al sistema produttivo. San Gritana ha continuato quindi a lavorare, rinnovando contratti e acquisendo nuove commesse. Da qui la necessità dei due locomotori che arriveranno nel Parco Mezzi venerdì prossimo a servizio della piastra logistica della Val di Sangro e Sevel. L'annuncio a Lanciano, nell'officina storica, il presidente Pasquale Di Nardo. Sicuramente abbiamo un'opportunità, come diceva lei prima, in più, che si sostanzia con due locomotori aggiuntivi ai tre elettrici che presentammo cinque anni fa. Ci possiamo consentire un investimento di questo tipo che spiora i 4 milioni e 400 mila euro in virtù di nuovi contratti, di nuove commesse. L'ultima firmata con Compagnia Ferroviaria Italia ci consente di poter da Melfi guardare la stazione RFI di Poggia e Servilla con questi due nuovi locomotori e trazionarli forse fino a Rimini. Punto interrogativo, lo stiamo trattando in queste ore. Quindi sostanzialmente un investimento finalizzato ad arricchire e ampliare la nostra operatività, ma anche a dare più opportunità di lavoro a questo territorio e con un segnale positivo sul bilancio che negli ultimi tre anni, nonostante i segnali di crisi, il Covid e quant'altro, porta un segno positivo sempre in maggior progressivo. San Gritana farà anche un focus sul trasporto merci su ferro nell'open day con i player della logistica che si svolgerà a Fossa Cese a giovedì pomeriggio. Il presidente tuo, Gianfranco Giuliante. Da un lato è un punto di arrivo di tutto il lavoro che si è svolto nel passato, dall'altro è un punto di partenza perché in questo momento lo sviluppo del trasporto su ferro è diventato essenziale per l'economia e per i trasporti in generale. Non tanto non solo per motivi ecologici, quanto perché stiamo vivendo in Abruzzo il dramma di autostrade intasate, di paesi che ne stanno subendo le conseguenze e con il trasporto invece viceversa sul ferro si stanno risolvendo tutta una serie di problematiche che fanno riferimento anche alla possibilità di risparmiare grazie agli incentivi che la regione Abruzzo ha dato proprio perché si riconverte sul ferro.